Ciao ragazzi. Ciao a tutti, siamo Carlos e Charles. Come vedete non vediamo niente. Ci sono dei bicchieri credo da qualche parte qua e dobbiamo prenderli, anusarli, indovinare il sapore. Ecco, questo è il gioco di oggi. Possiamo assaggiare? Limone, è limone, è zucco di limone. Bravissimo, ma come lo sai che ho io il bicchiere, scusa? Non viene? È prosciutto cotto. Ma come lo sai? Non è venuto me. Ah, accetto parsemico. Accetto parsemico. Eh, eh, eh. Sibulets. Eh, no, eh, lo so. Mi sta inscrito, per favore, non dirlo. Menta. No, è yerbabuena. Come si dice yerbabuena? È yerbabuena. Yerbabuena? È come si dice in italiano? È basilico. Basilico. Che vocabolario, mamma mia. Parmigiano. Parmigiano. No, primo io. Parmigiano. Eh, carne. Questo c'ho un po' paura. Eh, bolognese. Eh, bolognese. Ragu. Ecco. 3,3. 3,3. Caffè. Caffè. Quattro paure. Quanto sei per oggi? No, regala. Sì, quattro paure. Ma come lo sai? Arrivo. Wasabi. No, è arrivo. Wasabi. No, è cucumbre. No. È... È quello? È gengibre o... Ah! Non zucchina, l'altra. L'altra. Concombre. È cucumbre. No, non è. Ah! Ah, no, 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 lo so. Eh. Fenuglia. No. Fior di latte. No. È buona però, eh. Ma che sedano? Questo è mozzarella o no? Sì, è mozzarella. Vabbè. Cinque o quattro. Ah, eh... Lenticchie! Lenticchie! Wow, cinque a quattro. Mostarda. Gelato. Vaniglia. Crema. Crema? Oh, no, no. Ultime tre. Puliti. Oh, il dito di Titi qua. Oh, no. Eh, si parte? Eh, basta! Oh, uova! Vale. Rosa. Rosa, ragina, ragina. E quella frutta, è come una frutta... Un radino! Ci va più vicino a Charla, anche se non è radicchio. Radicchio! Un trabanello. Un trabanello. Un peccano, salito, la russa, l'Italia. Mamma mia, che schifo che mi fai! Hai ancora i diti pieni di crema! Eh, lo so! Come lo sai? Guarda chi è! Chi guarda! Ai, 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 vabbè. Ho vinto chiaramente. Sono molto contento. Non hai vinto! Grazie di tutto. E ci vediamo a Monza. Quella è la luce. Grazie a tutti.